Start, 2, 1, boostly mission and liftoff! Faremo tante cose. Ve lo faccio vedere, l'ho iniziato da poco tempo. La grafica è disagio ma non così tanto. Disagio invece è la voce della IA che ci sta parlando. Praticamente siamo in questo laboratorio dove abbiamo ancora delle porte bloccate dove possiamo andare a lavorare al nostro computer o andare qui. Qui c'è una porta che ci porta in bagno ma non c'è ancora nulla. Qua possiamo lavorare. Qui potremo assemblare i computer, potremo effettuare i lavori di saldatura e qui lavoreremo. Possiamo anche spegnere l'Alexa o cambiare musica. Precedente, spegni. Io spengo così lavoriamo in silenzio. Se riesco a beccare il tasto. Ok. No. Che due maroni. Spegni. Ok. E qua abbiamo il computer dove possiamo andare a effettuare cose. Qua abbiamo anche il telefono che ci permette di andare a vedere i contratti e vedere le notizie. E in tutto questo noi saremo anche presi di mira, perché lo dice anche la pagina Steam, da Anonymous. Una sorta di Anonymous dove in pratica potremo andare a subire delle minacce. Qua abbiamo decifra, quindi faremo anche lavori di hacking. Comunque quello che facciamo adesso è andare a vedere se c'è un contratto, non abbiamo ordini disponibili. Lo accetteremo via mail probabilmente. Completa due incarichi. Quindi iniziamo. Ah no. Tra l'altro devo fare una cosa adesso assolutamente sul telefono perché me l'aveva data da fare. Abbiamo la possibilità di andare, non qui, ma sul computer, scusate, nei corsi e comprare il corso da saldatore. E ci spiegherà come effettuare la saldatura. Quindi, questo è una simulazione. Prendi la scheda RFID. Poi clicca su OK. Quindi prendiamo il lettore. Non fare a rosso, penso. Pose oggetto. Entra in modalità cliccando sul lavoro. OK. Quindi qui usiamo i tasti VASD per muoverci. Possiamo raccogliere un oggetto sulla postazione. Il tasto destro. OK. Posarlo. Clicca sinistra. Utilizziamo un cacciavite per svitarlo. E poi... OK. Questo è il tutorial di come funziona il lavoro di saldatura. Quindi praticamente prendiamo lo screwdriver. Rimuovo la vite. Tengo premuto. Lo svita. E fa parte di tanti altri giochi del genere che abbiamo visto. Bisogna puntare bene con il mouse. Finché compare, rimuovi la vite. E stiamo aprendo questo affare qua. Fazzoletto di cotone per pulire la piastra. Rimuovo lo sporco tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse. OK. La voce è veramente inascoltabile, però va bene. Prendi il fazzoletto. OK. Fazzoletto. Che di pulizia. Tengo pulito. E pulisco. Vedete che migliora la percentuale. Tengo premuto. E pulisco bene tutto. Sprocco ancora qui. Non so. OK. Sullo switch rosso per accendere il multimetro. Un classico tester. Modalità che possono essere cambiate. Per scoprire le modalità, guardando l'angolo in alto a destra il tappetino. OK. Utilizzando le sonde, tenendo premuto il pulsante del mouse. Questo è anche a scopo educativo, perché ci insegna, grandi linee, immagini o non in modo specifico, come funziona. Perché praticamente io posso accenderlo, prendere questo e vedere. Imposto la modalità appropriata per il componente, come misurare. Prendi le sonde. OK. No, scusate, ma voglio capire. OK. Voglio vedere se passano i volt di coerente. Lo mettiamo abbastanza basso. E vediamo. Imposto la temperatura sulla saldatrice. Usante forno di frecce. Imposto la temperatura 300. Per risaldare, deliberati i due saldatori. Che tengo un componente. Prendi la fiaschetta del saldatore. E tiene un componente rotto. Rilascia con un pulsante. OK. Quando un elemento ha entrambe le saldature disaldate, fare il click per rimuoverlo. Dopo il disaldaggio del componente rotto, prendi uno nuovo dalla cassa e inserisci. Molto interessante questa cosa. Click. OK. Saldatore di componente. OK. Ma tra l'altro mi ha fatto fare sta cosa, ma non mi ha mica detto se funziona o meno. Resistore. Cioè, non mi sta aiutando molto, perché vorrei vedere se, boh, capirci qualcosa. Non so che cosa funziona o cosa non funziona. Non so neanche che componente è di saldare, ma accendiamola. La impostiamo a 300 gradi. Tenendo premuto sale. Sì, ci vuole un bel momento, però, per raggiungere i 300 gradi. Dissaldare la resistenza. Cioè, io dovrei aver capito che qualcosa non funziona lì. Però, prendo il saldatore. Che resistenza devo di saldare? Ma scusami. Beh, non ho mica capito io. Non ho mai capito di saldare. Come lo segno. Vedete qua il rosso. ok ma scusami non ci sto capendo moltissimo devo dissaldare questo adesso ok esco dalla modalità prendo uno di quelli dai componenti componenti 1 ah ok l'ho preso ok tab ah ok 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 prendo questo metto il resistore nuovo e lo risaldo ok quindi adesso è rosso saldato saldato perfetto testa delle schede usare manopole per impostare gli ampere rivolte appropriati per la tua scheda ricordo che puoi trovare queste informazioni nell'angolo in alto del tappetino gira la manopola ok collega la scheda utilizzando l'alimentazione select si accende e vede ok attenzione nelle riparazioni reali se imposti di un pre rivolto a porti puoi distruggere la scheda se ciò accade dovrei sostituire tutti gli elementi non funzionanti ah ok ok mi dava tutte le cose per verificare solo un bambino dovevo verificare che tutti i componenti qui negli home fossero giusti i vari numerati quindi vabbè va 11 11 13 volte 18 ampere facciamo 2 ampere e 12 volte quindi 2 ampere e 12 volte il range di funzionamento bene o male dovrebbe essere quello clicca sul connettore collegare imposti valori appropriati usando la manopola usa la rotella verifica che la scheda stia funzionando luce verde accesa luce verde non è accesa è rossa quindi ah i volt sono scesi non so perché ah merda l'ho mandato 12 ampere l'ho invertito che bambu che sono 12 volt mannaggia li invertiti veramente sono un bambu 12 volta ah ma qua ok e ma scusami 12 volta e gli ampere sono qui no ma perché ah ma scelgo da qui ah ok adesso ho capito vabbè andiamo a 2 ampere non me l'ha fatta bruciare l'avrebbe bruciata no vabbè anche se a 2 volt forse no però facciamo 2 ampere ok ok verde scollega il cavo rimetti il coperchio abbiamo sistemato è stimolante come cosa e avvita le viti al suo posto no ma scusami ah ok prendo qui prendo la vite bellino finalmente vengono messe da qualche parte vengono messe da qualche parte le viti a me piacciono un sacco questi giochi perché comunque ci aiutano anche a mettere ordine nella nostra mente e organizzare bene il lavoro sebbene in questi giochi in genere è difficile rovinare le cose esci dalla modalità prendi il lettore e metterlo sul supporto blu arancio ah ok prendo no ma come faccio a prenderlo ok sul supporto blu arancio è questo ok hai completato il corso non ti imparavi ok ho preso il corso di saldatura ora fatto questo si può continuare con le missioni tanto queste casse qui mi danno molto fastidio hai contratto a tua disposizione ne esegui bene o due sei rimane bloccato ok quindi noi possiamo andare ad accettare allora qua vabbè la mail di minacce supporto utente ho dovuto cambiare dei parametri di un server quindi contatti ok non riesco ad aprire la porta il lettore si è guastato no ho rotto la scheda Ethernet sarebbe fantastico ripararla ma abbiamo urgente bisogno di configurazione di active server lo faccio lo faccio perché assemblare i pc si possono assemblare i pc perché come vedete qua nel negozio è possibile andare ad acquistare dispositivi router componenti pc le cpu le ram si possono comprare poi si assembla al pc mettendolo qui questa è una postazione nuova che prima non c'era per la saldatura quindi a questo punto io avrò ricevuto sicuramente una mail abbiamo bisogno di supporto per la gestione degli utenti abbiamo ottenuto un riferimento da un'azienda bellissimo che si può selezionare e copiare vorremmo aggiungere due utenti Samantha Kate tipo utente Samantha Kate ok e che vabbè intanto facciamo sta roba active server mi mette già questo aggiungi Samantha Kate elimino ok vediamo un attimo se è un fastidio che non mi fa non mi fa shiftare da una all'altra devo uscire ogni volta a meno che non posso vederlo anche da qui infatti giustamente multitasking allora Samantha Kate gestisci nomi utente ok copio si può copiare proprio così va bene s Kate ok password questa ctrl c ctrl v nome utente s.kate selezionare il cambio password ok il prossimo riavvio il gruppo gruppo tipo utente ok tipo utente email selezionare il cambio password tipo account tipo utente ok gruppo non mi mette niente quindi io lo creo così aggiungo una nuova mail caitlin carry la password è ccarry armware.trans admin nome utente c.carry la password è sempre la solita forza contazione nel cambio passo prima c'è farmi sopire quando è finito e non mi dà nessun gruppo quindi lo decideranno dopo credo vedete che questa è una missione di gestione ci siamo ogni volta voglio aggiungere due utenti credo sia tutto andiamo sui contatti me lo dà da completare attivo completo perfetto abbiamo ricevuto una nuova mail 5 stelle su 5 ci hanno pagato e ok e qua abbiamo fatto uno di questi infatti qua adesso tecnicamente una volta che noi usciamo dal server non avremo più accesso perché è una missione infatti non c'è più nulla e abbiamo rischiato il bug qua si possono fare corsi supplementari sulla gestione delle reti e gestione del terminale perché poi metteremo comandi anche da terminale l'app shop non ce l'abbiamo ancora la banca neanche si fa molto interessante andando avanti i contratti va bene questo l'ho fatto non riesco a aprire la porta la scheda internet sarebbe fantastico ripararla abilità richiesta saldare prendo la richiesta mi arriverà una nuova mail ok dovremmo trovarlo carrierlo qui sul tavolo no e no ma credo che arrivi il giorno dopo perché noi possiamo far passare la giornata andando qua sopra e passando il giorno dopo eccolo qua apro ethernet module ok lo prendo lo piazzo qui e bisogna impostazioni e salvature vedere qua ci sono le specifiche 20k ohm su tutti i componenti si beh ma tanto sarà solo quello da cambiare intanto fatemelo mettere facendo sì dovrebbe essere questo vediamo ma sembra essere tutto a posto non abbiamo un modo di provarlo questo per il mio computer non lo so onestamente non non saprei dire cioè possiamo impostargli di vedere un non lo so un voltaggio ma non me lo da ah no che pirla è vero devo devo testarli quella era solo una guida vediamo 12 12 12 12 va bene va bene va bene va bene non va bene va bene non va bene quindi quindi r6 non mi ricordo il piccolo era l'altro vedete r3 questi due qua ok li stacchiamo subito impostiamo 280 dovrebbe essere 300 va ok ah cliccando lì me lo mette già allora non mi ricordo più qual era ma penso questo la saldatura non è nel range ma sta salendo ancora ok allora 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ok e dove sono gli altri resistori non li abbiamo dobbiamo comprarli immagino ah ma non ho neanche pulito la scheda dovevo pulirla non si fa così ma perché non l'ho buttata via ah l'oggetto è pulito ok spegni qualche anzi no bellissimo che si raffredda allora mi mancano i resistori non credo di averli qui tra l'altro mi diceva di prenderli da una scatola ma è perché era il tutorial io credo quindi dovrei dovrei andare a prenderli forse qui sì 0402 non ne ho eh sì 0402 102 no cos'è che mi serve fammi rivedere 0402 0402 normalissimi resistori 0402 quindi andiamo al negozio dispositivi di rete parti resistori 0402 no tra la parte che ne compro 10 va 10 10 10 questa parte è bellissima ok ok meno principale ok posso check out posso farli arrivare oggi mi costa di più ma non mi interessa eccoli qua tengo premuto e prendo già i resistori che me li mette già nel se volessi metterli tutti lì no siamo ovunque no devo capire ok 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 me li ho messi giusti vado un po' a sentimento mi servono questi adesso no 0402 normalissimi 0402 ne prendo due due ok allora questo no devo selezionarlo ah ok clicco clicco me lo mette sì l'avevamo fatto anche prima ok saldo 1 2 forse così facile 1 2 e ho dissaldato qualcosa secondo me no 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 tutto a posto tutto a posto e questo non lo posso testare però posso prendere il tester e fare il test 12 12 12 12 e lo dice anche questo sì tecnicamente dovrebbe funzionare tutto perfetto quindi non mi ricordo come si fa a prendere ok poso ok in teoria dovrei completare invia comprati i mobili e rinfrescare il tuo ufficio permiti per entrare in modalità decorazione dell'ufficio quindi possiamo andare a migliorare il muro migliorare il piano migliorare le piante i mobili e cose varie ok molto interessante il gioco è fighissimo veramente fighissimo un po' ostico magari all'inizio nei comandi però è figo qua si va invece a mettere allora la pasta termica non ve la fa mettere quando mettete il processore però montate le RAM montate il processore per magari si potrà anche installare varie cose vai nell'applicazione della banca sei sbloccata la banca nella banca abbiamo cronologia delle transazioni vai alla scheda prestiti se ti trovi senza soldi ok abbiamo le spese abbiamo il bilancio dell'account ci hanno pagato un sacco di soldi a fare tutti questi lavori e non so se poi avremo anche affitti da pagare per procedere a solo continua a crescere e lavorare perfetto quindi ora queste cose che possiamo fare sono queste ragazzi io di questo gioco non so dire ancora il prezzo perché non è ancora uscito ma me l'han proposto gli sviluppatori non lo conoscevo nemmeno grave sbaglio mio però spero che ora lo conosciate anche voi spero di avervelo fatto scoprire mi farebbe piacere fatemi sapere che cosa ne pensate ai minotarobot va bene le leggi della robotica cioè ci sono un sacco di cose interessanti e qua ci sono aspetta un secondo che c'è un appunto qua nel 3815 allora 3815 e questo è un tablet ah ok ok temperatura ok server room questo è interessante e il bagno la temperatura del bagno bene interessante e questo invece nessun incidente registrato perché poi ci saranno appunto gli attacchi anche dell'hacker da Anonymous questo non so cosa sia successo comunque interessante bene ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao